pomeriggio 5, pomeriggio 5 che sei qua e pare di schifo pomeriggio 5 se no non ci servivi per remb metà di mille io sto già entrando no mi sta scaricando sta mappa che non me la scarica che palle non puoi giocare a niente ma non lo so perché l'ho anche reinstallato buonasera amici della chat no anche a me la sta scaricando no ma poi mai dice dream village no è uguale connecting to server due tacche e non va vuol dire che non va esatto buonasera cerchiamo di riciocare a ttt come state? no comunque mi sa che si è incastrato su una mappa non usata forse non lo so grazie mille allora grazie mille a il k sbamman lamporosso94 e anche warrior4911 grazie mille a tutti grazie mille a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti come state? grazie a tutti guarda io sto bene tu come stai? io come vi stavo dicendo tu sei caotico neutrale pensando di non dover uccidere nessuno quella sera e invece ne ho uccisi due praticamente quindi sono sono l'unico si sono l'unico quindi non funziona mai più niente non non funziona come non funziona grazie gabbo io sono dentro mi ho detto a voi a me dice non trova la dice missing map e non me la scarri grazie nugget faccio un rtb devo prima giocare per fare non ci vuole un altro che deve riuscire a entrare uno io sto provando ma sono entrato sono bugato sotto la mappa ah caspita lo dice anche me fai unstack aspetta che votano la mappa ma cosa ho scritto? beh non lo so comunque no servono più giocatori per votare la mappa quindi non basta no si comunque questa mappa laggeggia leggermente scatticchia grazie andreo beh però aspetta quanti round mancano magari se ti suicidi esce eeeh si intanto non ci vuole tanto prendo la frag oppure la jade bomb che dà una vita che non la non la si usa ah la 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 hai vinto marco cosa votiamo cosa votiamo non lo so una normale una mappa normale una normale Italy Italy e va bene dai poi andavo opa vabbè non c'è bisogno vota te ciao ciao a tutti amici questo è un po' di merda mamma mia carla tu non hai idea di cosa è successa nell'ultima nella mia ultima sessione piani che si sono fusi al piano materiale balrog che combattevano solar una città enorme che esplosa con le mura che sono diventate in parte carne e in parte roba alberi che hanno preso vita pixi unicorni tutto tutto insieme è stato un casino basta un po l'audio di gioco francesi tedeschi un casino abbassa un po l'audio di gioco abbassa un po l'audio di gioco allora penso che posso farlo direttamente acqua indietro opzioni audio buonasera 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 a tutti benvenuti a benvenuti a l'alieno l'alieno raga me è bloccato sulla g ma non sta facendo mai ma perché non va più ttt cosa è successo ma non siete buoni ragazzi a me insende il client info da mezz'ora e io sono entrato subito anche a me io ho messo la password ma siete partiti con la live e non mi è arrivata la notifica a me vabbè si cacchendo pathfinder marco sei tu no boh mi dà il sindicale in tipo da mezz'ora e sono qua da 5 minuti tipo mentre lui grazie 12 mesi vado a quanto alto questa pagina mister presi dent come possibile che mi ha colpito sono dentro boh bene se non ti sta caricando roba nulla e camp perché forse ti sta ancora caricando la mappa la vecchia non mi sta partendo neanche più danno e rompa mi sa che ho problemi con steam perché prima no ma è che rispondono i problemi tutti annulla e ricarica ma c'è il download c'è il download della mappa anche lei mi sa ma ci sono modi più la più rapidi di un libro da 300 più pagine per cominciare con dnd non penso secondo me si è offeso ttt che non ci sia giocato che esatto probabile probabile solo per voi che puzzate ma sono per tutto da dire ha detto che stiamo giocando a rainbow mirare qua è un suicidio non volevo eh no ho sbagliato ho fatto una roba che non sapevo se potesse fare vado a farla più prima in tracare il verino sono il re della mattino bravissimo bravissimo facilissimoissimo ciao marco non va non lo fare dai fanno non dirmelo sai che poi lo faccio sono cazzi vostri ma qualcuno ha ucciso marco chi è stato non lo so non io e tu per forza perché ho l'ottima nero qua davanti a me no no non io perché palle che non ho più il marco ti sei mangiato il coltello ma lasciami di ezzar allora ma mi hanno chiuso mannuto no no ti ho chiuso io l'ho chiuso io l'ho chiuso io l'ho chiuso io ma no io ho chiuso colpita di ezzar facciami a vederlo tu che stavi giocando ci sei nella chat dei termosifoni buonasera desi senza fare neanche la rima adesso siamo giusti per giocare ci siamo non ho fatto allora stacca stacca stanno tracciando riavvio computer che faccio formaggio no no grazie no non serve a me non è cambiato nulla ma ci sono frienze capito gli ezzaro no ti stai muovendo di me anche se non stai stermando non sparare infatti ai 116 di pietra ti si sta abbassando adesso ti si sta abbassando moro io sono traditore se fortesemente aia avete visto che bella la fibra è bella è bella è molto metà vita mia sei bella nessuno ha merda perché c'è successo roba dietro di te mentre t'abbavo no luke siamo in tanti e abbiamo deciso di fare marco pronto a ucciderlo che è lui il traditore comunque quindi entra e si fiditi luke sento qualcuno sparare cioè curarsi ah marco buongiorno buongiorno chi c'è qua sopra che sicura qui ci sono gatto a c'è il moro che sto laggando stanno sistemando le questioni moro aspetta che tabbo un attimo perché aiuto ok ci sono ma qui c'è del verde il puzzo e si invidia stamattina mi è successo una cosa che chi di voi ha giocato skyrim a modino a modino a modo intendi con a modino l'ho detto che t'abbavo perché era una cosa prendo le punizioni è sì perché non trovavo munizioni ho svuotato un caricatore ho preso il codi di messi a me nella mente questo dettaglio vai le persone malate che vomitano verde no no magari era e invece no è il vanilla è probabilmente era qualche e si qualche evento randomico erano e li chiamava infetti però era era incredibile perché sono venuti questi tipi arancioni mi hanno vomitato da uno uno potrebbe essere marco ragazzi non sono la base di cosa infatti porca puttana c'è moro potrebbe essere manu perché non mi sta dicendo sulla base di cosa ma da dove è stato ammazzato è morto ai notti non è vero è qua sto controllando manu non mi fido dimmi perché sono io come lo dice perché sei passato da dove è passato roti non hai detto nulla ok manu sparategli no no era manu ok scusa la sua difesa volevate voi che fanto sangue invece invece l'altro è marco sparategli esatto e chiaramente marco sparategli ha detto ha detto esatto ha detto esatto lo prendo io la 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 la... la 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 Polli la 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 oh ma qui ce la k47 la 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 C47 la 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 k47 di qualcuno si spara ma l'hai fatto marco non l'hai fatto sei a posta io ho tagliato con la bottiglia sei a posto marco pensavo uno fosse marco ho paura ho dei messaggi ma allora chi è? è colmo che scrive buon natale e moro pensa sono sommerso da nitri di neve gatto morì sempre noi due ci incontriamo gatto è morto sicuro 100% quindi ora sono australopiteco io l'ho sentito australopitecus perché dovrei essere io? perché gatto è morto io ero da solo e loro erano insieme e tu eri da solo io sono stato il primo che ha detto di gatto tu non hai detto niente è stato zitto come facevi a sapere che è morto gatto? perché ha fatto agga ed è stato zitto non sa le cose si sta aggrappando ma dov'è? è quello che non capisco se gatto è morto no no è Eliezer gli sparo a vista per forza io so di non essere qui no non so dove è gatto il gatto è qui guarda ho trovato che spavento ora ti stavo sparando eh non potrò fartà è morto anche i not perché non sta zitto andiamo insieme aspettami Marco dove sei? dietro arrivo eh dove? da giochi sono io sono io grazie andiamo arrivederla arrivederla eh? di là? hai rotto una bottiglia che spavento ah che sbotti aspetta insicuri kick insicuri kick non è non c'è Eliezer niente era i not ci ha gabbati tutti i not forse si le banane in pigiama che cacca no non c'è nessuno va vedere qui dietro insicuri kick insicuri kick però ti deceduto ci dividiamo Marco vatti video vatti video è meglio divi ah è qui cacca mo insicuri kick Marco sono vivo eh insomma cacca mo scusami vabbè no scusami non ricaricarlo Yuge sette anni sette anni aspetta sette anime titiri niente titiri titiri non mi troverete mai ragazzi andando avanti così ma sono qui è stato arpionando sono stato arpionando no non c'è chi ma la dici che tumore che ansia che cacca di dolore motto di vita rossi vivo scappatela e invece pensa un po' moro identificami ma lordo che fastidio risulti buonasera a tutti e vabbè e vabbè e vabbè cacca mo colpito io no no nessuno sta zitti non vabbè cacca ce la stiamo facendo tieni cos'è le pallottole nel peto colpa mia dove è andato e vabbè e vabbè non ce la facciamo che vinciamo noi che dolore mi spiace che ho parlato mi sono cacchiatto e vabbè dabbo la smetti no 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 non la smetti moro e cosa c'è e la smetti ma che se sono io il capitano adesso ti uccido capitau 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 ti uccido io hai notte una telecamera peggiore di quella di eh vabbè ragazzo no è che io guardo ehm te qui in prima persona è meglio un po' di meno le persone eh forse sì infatti farò così sono detective uccidete ma non c'è niente conan conan che spavento come c'è tant'anni luk tant'anni di qui cacca mo no la ciao per aspetta mi marco di guerra aspetta di guerra morelli uccidete mordi per davvero luk ma lo shotgun con due colpi schifoso luk 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 pura me luk sono detective devo finire i soldi nella scheda tette dure un trollo anche solfix 486 blu monday che mi fa perdere e poi ritrovare le cose ciao solfix ma qui c'è un cazzo è blu monday è blu monday è una giornata cosa perdere e ritrovare le cose non ce l'ha detto non ce l'ha detto blu monday il titolo della mia live non mi leggono non mi leggono stavamo tutti qua eh si e quindi vi uccido tutti ma allora io lo posso fare il volo come ho fatto ho fatto volo quindi chi era presente marco nel mentre nel mentre di che niente erano gli altri hanno visto tutti che ho ucciso il traditore lo metto qui guarda ma si ma chi c'era oltre a te bravo eh non ho visto io non c'ero io non c'ero e non penso di aver incontrato nessun altro e luk e luk vabbè ma manu è arrivato noo gatto ah ok cosa c'hai cosa vuoi mi l'ho incastrato noo gatto la reaction un po' esagerata non prendere in giro testicolo la 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 polli mi sono incastrato eh si ti sincara no ho lavorato io per togliere il barile che non si toglieva perchè sei un un pezzo di pezzi un barile di piselli un stuc ma no ma no basta che fai aspetta aspetta mi sono piegando e non va dove no ti prendo la vabbè adesso dove devo andare la bicicletta la bicicletta è uno scuro incredibile è uscito è morto è morto che c'è là sotto ma la roby c'è ma riavviato tipo mi puzza una persona ma non dirò il nome ma c'ho un cane accanto a me no perchè non ho prove potrebbe essere solo in l'azione quindi non lo dico cosa potrebbe essere per me l'impiazza a mano perchè è vicino a napoli hai visto come parlo ne capite era una battuta a sfondo razziale positiva non tanto ma c'erano ci 4 qui merda via via me ne vado vicino a me 3 2 1 chi è vicino a me è un po' generico ok non si sente niente con il volume così basso no la vista rossa vado ho rotto un anguria scusa c'è il mio cane che sta ringhando all'altro poteva uccidermi quindi non credo che sia lui anche tu potevi uccidere ma io ho discusato per la c4 e non vuol dire e mi ha visto avevo ragione mi sospetti erano adatti forse abbaglierà il mio cane vi avviso c'è lo scuro in camera mia che sbatte lui si è cacca c'è uno scuro c'è uno scuro in camera mia ma si il come li chiamate voi le tapparelle le tapparelle brufolazze no perchè non sono tapparelle le tapparelle sono quelle che scendono le tapparelle sono tapparelle gli scuroni Quindi Luke, Liezzar ha in otto Manu? Io ci aspettavo di Luke ma per dati che non erano in onda Mi sa che Liezzar non è Manu non c'è Mi sa che è Luke, ragazzi è Luke Perché io e Liezzar potevamo ucciderci a vicenda da mo Ah ma magari siete due bigolini Eh certo, con Moro anche che è morto hai ragione Ma scusa ma Manu che fino ha fatto? Eh boh Non è uscito Pure Mi sa che è morto Marco No, è una zanzara maledetta Leante, esatto Non si crede a te o meno Ma non sto vedendo nessuno io ragazzi comunque A parte che ho il cane che sta tremando e ringhiando come non so cosa Un po' Dai calmo Ma chiudi quel cazzo di fuoco Perché questo qui è Marco che è morto Sono qua, adesso finiamo la partita e lo chiudo Così si tranquillizza un po' Adesso questo è Marco ed è morto E parlava con la chat Guarda te, sto strozzo Ho sentito un... Ma non mi identificare Con quella cacchio di taser che almeno ti darà Ma veramente ho andato in giro tutto il tempo con la taser che non ha taserato nessuno Cosa vuoi fare con la taser? Eh, c'ho il bigolino di fuori Infatti infatti i tuoi non lo so Era lì tutto duro Niente dai Luke Bravi, aspettiamo un attimo E' la fine per noi Niente Eh niente Bravo Bravo Che cacchio Perché chiudo le ante Arrivo subito Ho capito ma tu sono morto di sorpresa E sei morto E ho capito E poi dopo stai dire Poi hai parlato la chat Ho detto Ah no allora magari è ancora vivo E mi sono distratto E vedi? Ma io volevo Volevo trafugarti Dicendo che era la zanzara E invece devi tacere Vabbè te lo dico sempre Non devono giocare Ma prima hai fatto la stessa cosa Gatto tacci Ma poi non ho parlato con la chat E io sì Coglione Dovrebbe essere tutto a posto? Io ho sentito Va bene Sono tornato Te che morivi Ho detto vabbè Marco è morto E tu hai detto no no Ma come no no Coglione Ha detto lo scuro L'oscuro Con le mie Vabbè Fatti fatti tuoi gatto Ho fatto danno anche il mech Dammi Ecco Vuole diventare Non posso far diventare No Eh no Fortuna che non l'ho comprata Ho sentito morire Qualcuno ha messo la città Qui dentro L'ho visto chi era Luke l'hai sentito? Aspetta Eccomi qua Ciao Robert Così siamo in occhio Qua è morto È morto Vado a disinnescare la c4 No Aspelli Mi sa che è moro Eh ma non credo fossero quelle Gli è zarocchio là dentro Cosa? Chi c'è? C'è dentro qualcuno che si curava Andiamo prendolo Però non fanno la c4 Ah si sta dentro Eh Luke non è È un è gatto L'ho visto dalla finestra Bastardo Ok uccidiamo Aspetta An culo gatto È sceso Ecco l'ho preso L'ho preso il volo Povero Luke È morto qualcosa che potrebbe essere Povero Luke È a tre colpi No 10 Quanti ne ho lasciato Ne ha 64 Come è possibile? Mi giuro Ma no perché mi sa usare gli stessi colpi del Ah è vero Eh tanti auguri Gatto si stava sparando con Luke Quindi Luke non è niente Eh Luke è morto È morto Perché perché è morto È difficile Sei proprio Eh Scusate 27 di intelligenza Ho rotti 50 colpi di pompa Moro Moro poteve pe, 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 pe Un è moro quindi Ma no non so neanche dove era Ma è Moro? Marco? Ma allora? Ho sentito un silenziato Te l'hai sentito? Non era silenziato Santo cielo che figura E non so dov'era però Sto silenzioso Silenziante No E dove era sto silenzioso? Non ho capito Forse è nella casa No sarà nella casa all'interno ragazzi Quella a metà Nella casa all'interno no che ci sono io Ok uno è moro No non è passato nessuno Eh no moro dai Guarda qua c'è un corpo morto Passerà sopra la casa Ho sentito qualcuno prendere Mark è morto dal silenziato Era all'interno della casa Qualcuno ha preso delle munizioni Moro sei tu Che passato Chi è che è passato eh Io non sono Io so che tu non sei Abbiamo ucciso gatto Siamo in tre Ma deficienti Confermo di essere stato cusci Io sono rimasto dentro un armadio tutto il tempo Cretini Ma Bella scusa del cazzo Non è stata tolta sta cosa Tra l'altro No assolutamente Ma quindi forse è ancora chiusa all'interno della casa Ma no adesso sono dentro la casa Ma ho visto passare qualcuno dentro la casa Chi era? Ma chi? Ma che casa? In che casa sei tu? Non andavo più capendo Quella a corridoio Quale casa stavate parlando voi? Quella a corridoio Quella a corridoio Quella in centro alla mappa Eh vi giuro che io sono stato lì dentro tutto il tempo Eh Marco è morto là davanti Quindi direi che comunque sei tu Non è passato da lì dentro Non è passato da dentro Gli hanno sparato da fuori L'ha ucciso Liezzaro E tu non ti sei accolto Sei un cretino Ma Liezzaro ha ucciso gatto? Aia Eh allora sei tu il tot C'è finito Lietta spara il tot Vabbè però Che storia questa cosa Tu hai sbagliato tutto Eh no Liezzaro ha ucciso gatto No No l'ho ucciso io No l'ho ucciso Eh non l'ho visto Eh io non l'avevo visto E poi Vabbè lì ho parlato Ma purtroppo lì Come potete testimoniare il traditore Non potevo non parlare Eh vabbè Vabbè No perché io ho visto Gatto Cioè Liezzaro L'ho preso al volo Eh non l'ho sentito E gli ho preso la K pure Parlando anche di colpi No sì Confermo Il fatto che avevi preso la K Me lo ricordo Però Eh no abbiamo detto L'ho preso al volo No Era caduto a due HT No sai cosa Il fatto è che era entrato anche lui Per dove c'era gatto Magari era per Eh sì Eh lo so però Era più probabile che fosse Moro Da come l'hai detto Quello lì è diventato Narnia Tutto Narnia Tutto il film Sembra bellissimo Signor film Non è vero Mi ha sempre fatto cagare Che noia Porca puttana Che noia di film Che paura Mamma mia gatto In realtà è bellissimo Narnia Però effettivamente Quei film hanno fatto un po' di Gatto mi ha ucciso Gatto mi ha ucciso Ho ucciso Hai notte Uccidete gatto Gatto mi ha ucciso Ho ucciso Hai notte Confermo Gatto mi ha ucciso Hai notte Confermo Ho ucciso gatto Come? No E Moro il traditore Perché lo conosco Ma no fa così Eh sì Ah è proprio già scammato Ci aveva messo Stava mettendo una C4 Bravo Luke Ma perché sei venuto Proprio qui dietro Luke Che bisogno ne avevo Ma non c'aveva veramente Lui è l'uomo delle C4 Le annusa Non l'avevo ancora Sì sì no Come lui le annusa Lui ne sa Quindi la Merito mio allora Beh questa me la cicciate Ciao È arrivato Ho sentito sparare Mi ha fatto uccidere Poi si è fatto sgammato Gatto sei davvero tu? Che deficiente Che deficiente E che cazzo è successo Mi si è stoppato il gioco E Rainbow Six è diventato Mi sta bene Eh mappa normale Rooftop Eh ma te sei morto subito Per forza Perché? Vedete voi Che cazzo vuoi coglione Comunque Un dito un attimo gatto Ne approfittiamo Adesso cambiamo mappa Che diciamo Che mercoledì Ucirà lo speciale dei 50.000 Eh sì È finita la live Verrà inviato A tutti i subscriber Sono anche qui Esatto Quindi Subscribatevi adesso Ma cosa avete capito Mica applaudi Non mi schifavo il culo Sè Sè Esce Per colpa vostra Non avrete più niente Da mai Esatto Mi raccomando Subbatevi spesso Subbatevi adesso Esatto Che bella Perché la rima Controllate la rima Sempre che ha fatto rima Non era mia Che arriverà il link Vedi che c'è Budilino Che c'è un tosto Ciao Marco Abbiamo un regalo per te Adesso voglio vedere Qual è il regalo per me Oddio Resident Evil La 19.98 Siete felici Di essere su Io vi giuro Che ho parlato Per tutto il tempo Ma non è vero Ma ti credo Non posso sicurare Che Cazzo di Merda La Sei di allora Scurrile È un po' di tutto Questa frase Ma che solo No me la scaricherai Max de One Subboburr No mi si è riabbirato Vedere quanto siamo dentro Allora Vi arriverà un email Beh Sì Più di sette sicuri Vi arriverà un email Sull'account Dell'email Appunto Di cui L'account di Twitch Guardate quell'email lì Vi arriverà un email Da noi Con il link del video O se no guardate la sezione Inbox È morto Marco L'ha ucciso Inotti No Nella sezione inbox Qui su Non è vero Esatto Vi arriva un messaggio Qua su Twitch Però È più comodo È più comodo di email È in realtà L'email Poi ti rimanda Ma è vero Comunque la vedete Subito Non ho capito Era Marco Uno è moro Ma che è uno è moro Sono il detective Moro chi è È il not Crettino Ascoltami quando parlo Le parole Eh sì però Non me l'ha caricata L'ha ucciso Marco Se Marco Io ti sto colpendo Moro però Mi hai colpito Mi hai passato davanti È la sub Porca puttana No io ti colpisco Z Hai colpito adesso È inotto Z È sotto Adesso è sopra È sotto Ma io mi ero dimenticato Ad avere la sub Brava Sian Mi sono divertito A vederti uccidere Non ho fatto in tempo Neanche a dirtelo Non farlo Mi suicidio Tra l'altro Io inotto Dovremmo vederci Appena finiamo Una serie di Sfortunati 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 Urgili Incidentosi Non vi posso Aspettare voi No no Massimo tre persone Poi vi sparo Mi prenoto Va bene Io te hai inotto Quindi Moro Se vuoi vederla Mi diciamo A parte il fatto che Ce l'hanno pure chiesti Dai Roby anche tu No mi vergogno adesso E allora basta Deve starci la terza persona In quattro me la vedo da solo Grazie a Gabriel Gabriel Grazie Io non ti ringrazio Che substrino Brava Roby Perché tu sei sempre carina E sempre gentile Dove sei? Ti do un bacino Che un po' che non te lo do Tra l'altro dobbiamo recuperare i filmoni Che ce li chiedono Eh c'è Twilight L'ha rimesso Possiamo finire la saga Adesso Figgata Pensa Ma avete già registrato il secondo? No Moro spiegami perché sei Ho andato in tre Perché ho fatto così Uno Visual Visual Ma credo che ho ucciso Moro Ma non c'è più il visual Visual Non lo vedo Sono cieco Moro Eccolo Sono cieco Aspetta aspetta che mi ha ucciso Ma hai pochissima vita Aspetta che mi ha ucciso il gatto Ma è vero Sei vivo Ma guarda che è morto per su serio questo qui Ma no E che si è messo Ti faccio vedere Che si è messo qua così No neanche a me funziona Roby Siamo rimasti che messo qua così E poi è morto dopo un po' Dimmi Non ci ha sparato in faccia per ucciderti prima Non sei mica morto eh Allora Io non sono però Lo so che è strano Allora La dietro Oroti Oroti Via da qua Guarda Gabriele Che a te non piace Tappo una bottiglia di Coca-Cola No Allora la butto qui Con la Q Ok Ho visto Ho sentito Che hai fatto la Q Hai speso soldi inutilmente Mi spiace Cosa? E Gabriele Se è sul serbato solo per il video di 50.000 Ma poi non gli piace Esatto No non gli piace Secondo me il video Per forza è schiena immondato Che maledetto Qualcuno è morto Decesse Decesse L'ho visto tutto signor Ma Che stomaco Ah è morto Allora eh Ragioniamo un attimo È sulle È sulle È Eliezer Probabilmente È molto probabile Aspetta Probabilmente Eliezer Era sopra Sono anche ferito come un Pezzo di cacchio Era sopra Marco Sì sì lo so Adesso A parte che io sono curioso di questa cosa A parte che è Oroti Non è Eliezer Beh mi è da ridere perché Eliezer è morto Eliezer non c'è neanche Mario Ho detto Eliezer probabilmente Perché non l'avevo ancora Tammato Ma aspetta ma Ma quanti Quanti traditori ci sono ragazzi Io volevo vedere Fin quanto andavo avanti Eh no ma io Perché non stavo guardandolo Ragazzi ma quanti traditori ci sono Uno È uno mi sa adesso Marco Sì eravamo in sei Ma no io sono uno di quelli Sì siamo in sei Sì siamo in sei E Orotiar Se non è Eliezer E Oroti Ma dici che si sta camperando brutalmente Guarda Potete cambiare mappa E scegliere una normale Che io una roba Ah l'ho sgamato prima che mi tirasse Gli affari Dov'è Ma che è il shot Che è il shot Marco sono la prima scatola No non è vero Non posso farlo Da qua E poi mi butto di sotto RETERVE Grazie 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 Votate una mappa Amici in chat Lo chiedo in chat Gatto così ci togliamo Dimmi vecchio mio Che chiedevo oggi dei pokemon C'è un sito legale Dove posso vedere i pokemon Anche a pagamento Non credo comunque Non penso Se vi chiedono la chat Netflix Eh sì magari Ho tolto Netflix Che c'è solo la prima stagione C'è la prima serie La prima stagione E X e Y Ciao Moro Ciao Moro Ciao Moro Te lo dico io Ciao Moro Dimmelo Vai qui davanti Eccomi Aia Mori? Ma tu sei un pazzo Sono pazzo Aia L'hai ucciso? Duello madre Invece gatto E niente Dappo Che pelle L'ho aspettato anche troppo Per spararvi Ero pronto a tutto Una mappa normale Depor Una mappa Scaracare La mappa non Da scarico De porte De Wanda De Aztec No c'è da Ast Non votate più Non votate più E siamo a posto Dast o Aztec Rispondono Così forse anche la roba Perché da problemi proprio di download Non lo so Marco Grazie mille Mi sa che dovete scaricarvi Le mappe Perché io la roba Abbiamo formattato E voi no Quindi probabilmente C'è un qualche problema Eh ma non ci sono Tutte le roba formate Mi sa non ci sono Tutte le roba formate Mi sa non ci sono E non lo so E' un effetto da DJ No non penso So il film Da stu-du-du Io le sere Here is the story No su Pokemon.tt ci sono solo alcuni episodi A caso Un po' a caso Eh non so se c'è signorina Giorgia Non controlla sto qua Chiedi a loro per darmi la Grazie Chiedi a loro I am forzan I am forzan Marco mi stai dicendo che il pene che rientra Eh ma tolla Ma tolla Ma tolla Ma tolla Beh è una malattia Grato che il pene rientra A parte che non esiste nessuna malattia Provi prova a entrare Che ne sai Adesso mi cercate le foto Sulla non è vero No 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 Ehi Calmini Ieri Gianluca ci ha postato una foto Dove c'era Un pene Dalla quale fu riuscito un fedora Come è possibile Eh è stato Perdonami Non è che divertente Distruttivo Ma anche disgustoso Perché stavo mangiando Kinder cereali Eh se io ti parlo delle formiche Però ti scandalizzi Appunto Ma infatti Ma infatti L'ho insaccato di parole A quel figlio di una buona rava signora Se stavo mangiando il mio bel Kinder cereali C'è fuori sto cazzo Che riesce fuori il fedora Sulla cappella Va va fai il curo Gianluca di merda Ma sei specifico Gatto Io ti ringrazio C'è un cadavere E perché tu non hai visto la ghiaf E mi sa che non sono in quel gruppo Ma va bene così Non era nel gruppo Era qui su TS Ah sono felice di non averlo visto È morto con un'arma Che tra l'altro non ho mai visto Un fulmine di Pegasus Sì Ti hanno ucciso un muro davanti Mi sa che è quello che hai in mano te No perché è l'arma nuova credo del gioco Introdotto a poco fa Ma Mi state consigliando dei siti che non ho avuto E niente dai E quanto riccola sta merda di arma Comunque Non sono molto legali questi siti qua Amici carissimi Beh catto poteva uccidermi mille volte E non la fa Sono inteneita C'è un vince Orotti era con voi E ha detto che gli ha morto davanti Non funziona comunque Ma non l'ho visto fare niente È strano Non è che con le mappe normali Devi formattare tre computer E non lizzarsi tu Sì io ne ho due E mandare a stare sui muti Cosa sta Cosa Bravi Orotti perché Perché Ho vinto Va bene Io mi sono spaventato Comunque ai notti Sappiro Stiamo chiedendo anche scusa Esatto Scusa E tra l'altro hai detto ai notti Ma nessuno ti ha sentito Eh no Vabbè Ma perché sono stato zittissimo Non si è capito Mi sono morto No infatti Ah che bella questa Ma cosa è Ma non mi interessava Marco Dove sei? Io li sto già giocando con dei barilli Un barille Dove sei il barille? Che ho preso tra l'altro? Quei barilli che gioca E' il caso di aggiustare Il titino Oh no Eh ma non lo so come si possa giustare Perché sono problemi A me alla roba Che cacchio Moro Allora Oh Moro Non avete nello stesso computer Nella stessa connessione Questa è la cosa divertente Ha cercato di uccidermi Lo so Ma qualcuno è morto Ne ha ucciso uno infatti È un pezzetto Moro Era Orotti Non importa Tranquilli Non importa Marco Moro ha ucciso qualcuno Marco parmi detecti Marco posso uccidere Moro? Non farlo Marco Marco posso uccidere Moro? Marco Sono disarmato Marco Eh te lo dico quando torno dall'aldilà Sono disarmato Se no non si spara un disarmato Ti dite gli Izzor Guarda lì che ero spuca Aiuto Ma dove sei andato? Ma sono sparito Sono sparito Magari sono davanti a te Non è vero Non sei davanti a me Sei sparito Sono sparito O magari sono davanti a te No no Sono davanti a te Sì Sono sparito Eh ce ne sono alcune random Su Pokémon Su TV Pokémon Purtroppo Perché era comodo quello lì Che sta facendo? Devo aspettare che ne mettono su Netflix E le mettono Gattolo Gattolo Ci posso inclinarmi? No lo puoi E' il prossimo gioco qua Che palle Io c'ho il pop Palle moro La prossima volta ti uccido subito Oh sì Fanculo Gatto La tension La tension Ecco di qua gatto Cosa? Perché non hai sparato? Perché ho preso Non sapevo se era una battuta O se era cogliere lui In realtà era una battuta Poi si è uscito veramente Ma sono male anche io Non ero pronto Bene Senti Me lo ciula Me l'ha ciulato Me l'ha ciula Me l'ha ciulato Madonna gatto Mamma mia Ma tu sei morto? Eh sì sì Ma che scatto Quando ha detto Ecco ti gatto Anche tu sei morto Che doppia Che doppia Signori Eh no Moro mi ha ucciso Esatto Io ho ucciso voi due Io sono morto Eh sì Anch'io Ed ero partito Con un pompa in mano Sono morto Senza fare nulla Perché sono morto Ho cercato la Rainbow Six Tutto nascosto Tutto checchetto Ho lottato Chiedo scusa Non l'avete sentito? Io non l'ho sentito Ma l'avete servito C'era bisogna dire C'era bisogno Eh no Dico Sono sincero Io Stai Continua Da dove cresce la palma Dove prendere le munizioni Sono un ragazzo sincero E poi cado dal perro Hanno sparato con il fucile di preservativi Arrivo sui nostri Stai dicendo Non avevo no idea Guarda È impazzito Adesso vengo da te Te chi? Che sono tre seghe Perché sono tre seghe C'è un cadavere Oro ti stava un magneto stickando Stava un magneto stickando Potrebbe essere Allora tenete d'occhio il yuk Sì qui dice l'ultimo che ha visto è in otto Però tu ci sei passato E non l'hai identificato Tenete d'occhio ai notti il yuk Ok Mi tengo d'occhio No perché Identificalo oroti Io Marco ti rompo la testa E in otto Uccidete in otto Perché sono io? Uccidete in otto Perché? Perché due su Dove è andato a sparare Ok uno era oroti E l'altro è in otto Perché prima erano in otto E erano in otto E erano in otto Assieme Ma va bene Aspettate Però oroti Magari la prossima volta No? Vedi di non morire Sta merda di c***o Cosa fa un c***o Ti porti giusto Mamma mia Io l'ho sgammato in otto E l'ho ucciso mentre lo dicevo Lei è diventato una pipa Mamma mia Io ho detto in otto E mi ha sparato È vero Ho sottato Marco Infatti dovevo capire che era in otto Da quella cosa inizia Perché tra l'altro non è che l'ho detto dopo Ti si mi sa cantare Marco E io non ho fatto la palla al basso rispondendo Grazie a più per Dovevo dire di tresaghe Era più forte Eh Però il problema è che Marco Ti ho detto di tresaghe Ok No no Ho cantato la canzogine sottofondo Ma ho detto I not E potevo dirlo Perché ancora non ho mai avuto parato Sì Però poi dopo sei morto Hai cantato E in otto ti ha risposto Ma facendo intendo Ma non ho ancora vivo Io pensavo fosse ancora vivo Io pensavo fosse ancora vivo Io pensavo fosse un'altra un'ingegno E' birra Deve stare zitto Adesso gli stacchiamo il microfono Eh Manu Perché a te ne ha detto Marco che dichiara i suoi ruti Mi ha ricordato la Ombi Ho sentito sparare Morto Esatto Giorgio Morto C'è un morto Hanno ucciso Scusa È morto Secondo morto Anch'io ho sentito È stata un'idea dell'ostia Quella che ho fatto Gatto È un cadavere È un cadavere È un cadavere Ormai sono in mano No no È Manu Quindi da lì Eh no Moro Era Mark Era Mark Io ero qui C'era Mark che ha ucciso Manu E io dopo mezz'ora mi sono girato Ma Mark cosa fai? Moro Moro vai dall'altra parte Vai di là Ma come vai dall'altra parte? Ne hanno ucciso uno Lo prendiamo a Tenaglia Ah dall'altra parte intendevi questa? Sì Avevo sbagliato Scusa Ma pazzo Moro? Sei morto Moro? Che cazzo Moro è morto come un coglione? Moro? Sei tu questo vero? Mi spoilerà le donazioni Ah no questo è il gatto Mi preparo a leggerla Finch Sono sul Magari è più di 5 euro Dove ho star zitto Sì se è più di 5 euro Dove ho star zitto No non è più di 5 euro Ah non lo so Roby quando è che hai scorreggiato? Ma non l'ho scorreggiato Ma che cazzo di questo? Cos'è? Ma l'ha detto Mi ricorda la Roby Con il suo leggendario Ho scorreggiato Ma perché Intanto perché è leggendario? Eh non lo so Non lo so Open impact 50.000 like E secondo Non faccio neanche i ruttini Figurati se faccio le puzzette Le puzzette È di qua Eh Luke Dall'altra parte Di là di là di là Luke Finch io sto aspettando Ma mi sta venendo l'ansia però Magari la sta facendo La prima preannunzata Dove sei Liezar è passato di qua E poi È sceso Sicuro Adesso me lo deve fare Di 150 euro Chi è resto? E me la deve scrivere Proprio 150 Liezar Eh Il tuo compagno intanto è morto Ma subito così Ma un pezzo di merda Anche tu poi L'avevi detto in una live Roby Dicono Che sei un pezzo di merda Più di uno lo sta dicendo Sempre per uno Non riesco a Andrò A finire Io ho deciso il detective Ma sono morto malamente Chiedo scuso Ma sono È finita? No Cosa? Ah ok Non avevo visto Che era finita la partita Voglio Rivolgo La clip Il minutaggio Di questa cosa Grazie a nube Nube che corre Nube che corre Nube che corre E dove va E dove va Nel suo bel mondo Che pare fatato Care ad un tratto Non è più bambino Ma si rialza Sero positiva Oh oh Gameboy Mamma mia Ho rotto Mi punta Sono disattivato Ha detto Oh guarda È morto Mamma mia Manu no Hai detto con un'intonazione Che potevo togliere La vita Io ho deciso di Grazie mille Grazie mille Cazzo cosa fai Ho tirato Ho sparato un secchio E anche i soldi Con 1,50 euro Con questi soldi Mark si può comprare di te Che io ho finito il mio Ah quello lì Che mi avevi detto Nel tweet Perché avevo sete Avevo sete Lo strano su Twitter Mi arrivava a perdere Sì E per me Ti controlli il pene Veda se ce l'ha Per lungo No dottore Bene Zigmoon 29 Grazie Grazie Deve stare molto calmo Sai Pene 29 Questa E' te De rose Così Proporazione 1,50 euro Ernaz Ciao ragazzi Grazie mille Per la compagnia Grazie a te A te A te E alla tua famiglia E al te E al te finito Di Solfex Che sei il mio Grande amore La donazione di Finch Sta diventando Eh lui Ha detto Quello di fiori Lo voglio Sono fuori sulla carta Ma Aspetta Ma dai Aspetta Non è che Adesso vai al tabacchino A ricaricarlo Esatto Tranquillo La prossima live Ve ne fai 300 Di fila Ostia E per forza Ma io Guarda che Di fiori Adesso diranno In cia Eh di fiori Per le donne No no Io voglio Il tè di fiori Ok Credo Ma dove Si mi La camomilla Oppure Al carcadè Ma dove Il carcadè Infilato nel culo La camomilla È fatta con la camomilla Che sono dei fiori Marco Eh si Un vuotatwist Un vuotatwist Che poi lo sai che ho scoperto in questi giorni Io non lo sapevo Ho scoperto un po' a caldo Che la camomilla in realtà È un'eccitante Non ti fa rilassare È una caccata il fatto che ti fa rilassare È un'eccitante la camomilla Come cazzo l'ha detto Eh no L'ha detto C'è Un cugino No L'amica di mia Ma che fa Il lavoro in erboristeria Ha detto che la camomilla Tecnicamente è un'eccitante Poi per alcuni Infugge da Ah Luke Peccato Tecnicamente Non è vero Magari Magari Non infusa Non lo so Se tenere il culo È Eccitante Cosa ho detto Cosa vuoi Cosa ho detto Perché vuoi infilarti cose nel culo È divertente Ma Quindi vuole che hai provato Eh sì perché oggi è Ah dipende dal tempo di infusione Dicono Cazzo Ah beh sì Il tè alle rose è molto buono Sì l'hanno già sentito sta cosa Ma me la camomilla fa gara Ma il tè io lo sembro È un casino eh Che in genere bevo Tranne il gatto che uno schifo Sono banale Roby Bevo al limone o la menta Però sono Vabbè anche alla penca Continuo a cambiare arma io Però sono un po' banale io Tera de rose Alex Aldi in un'ora e cinquanta Questa settimana mi operano E sarò costretto a letto per un mese Se tutto va bene Siete una compagnia molto importante Per passare un momento relativo Buona fortuna Mi dispiace buona fortuna Vabbè magari Gli è costretto a letto Con una bella donna Magari Può essere Gatto 5 euro Scitti tutti Donazione 5 euro ragazzi Grandissimi Ho sbagliato Tanti coricini Minore di tre Grazie mille Virgilia Ma Virgilia come nome? Vabbè tanto non cambia nulla Infatti L'hai accattorciato È particolare Vabbè L'hai fatto anche la nuova Ciao Moro Che in realtà non è che serva molto 12 Dovete lasciare questo No 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 Fidati Hai rischiato la vita Lo sai Ho rischiato la vita? No Ma io ti voglio bene Moro Non ti taglierei mica la nola Dicono infatti che la camomilla può essere addirittura più eccitante del caffè Solo se te ne infili nel resto Moro? E io quando mi hanno detto questa cosa ho detto Allora perché c'è il mito Ma una granata? C'è il mito C'è la cosa che si dice Prenditi la camomilla per star calmo Sei un eccitante Ma non è un mito Lo dico ne basta Non è che c'è la leggenda Eh ma perché Sei un eccitante Più sparato eh Il signore che ha messo in giro questa cosa Visto che era un eccitante Ma perché funge anche da Voleva fare le cose zozze Se vivi la camomilla ti Anche perché c'è Se sei buono a farla E non la tieni sei giorni in infusione Non è un eccitante C'è la filtro fiore buonomelli C'è dolci coccole Lì come cazzo è che si chiama Buonanotte ai gufi Buonanotte ai notti Va bene Ma per cont'è che non veniva fuori sta sputtanata C'è un sacco di cadaveri qui C'è un sacco di sparatori lì Oroti Quindi sei molto triste Oroti o mano uno dei due Direi che vanno Diresti bene Niente Devi essere per forza triste Eh ma perché? Mark ha ucciso una persona Mark ha ucciso una persona Sparategli Sparategli Ma come non è vero Deficientemente Anche a me Gli spacco la faccia Moro appena lo vedo Gli spacco la faccia E io ti dico di no Fammi levare che gli spacco la faccia E fammi levare Con che mira Marco? Adentrambi con la Digo Gli ho spaccato la faccia Hai visto? Eh bacca normale Rosso di capelli Inizia Fiori bonomelli Che fallo Trovo una base L'office 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 fa schifo E quella lì che quando ti c'è da una parte Va tutto a puttana Trine? Dov'è Trine? Mamma mia Trine tutta la vita Erika Camomilla Che dice giustamente Qualcuno mi ha chiamato Matteo Rotti Ti sparo io Mark io non ho mai avuto Erezioni dopo un espresso Che palla Camomilla funziona Questa No vanno Finch Finch Zitti 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 Prendetelo pure se volete Provateci Chissà chi di voi ce la farà Gol di Thermoroger PS I 23 sono per la Roby E di 0,45 per Moro Se non me ne uscivo Con una cifra Bungis Non ero io Una cifra Bungis Invece che fastidiosa Ok Grazie mille Finch Quindi dobbiamo Dobbiamo passare Eh no perché così L'ha letto bene No no Riteniamo noi Mi dispiace Cavolo grazie Moro Per te sono i 45 centesimi No no fermi fermi Tutti cosa? Niente 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 No ma Roby Parlavamo di Del più del meno Così parlavamo tra di noi Niente di Comunque davvero Grazie mille Ci stiamo scherzando Grazie mille Grazie mille Mamma mia Ditegli che anche la Roby Fare live Sì anche la Roby Fare live Esatto Donate alla Roby Direttamente Forse non è il caso Di donare agli altri Non ho capito Vi date i soldi per me? No Guarda Non doniti Una parte Dalla loro reazione Sì No vabbè No ho detto la verità Non tutti una parte Non è morto qualcuno Eh ho sentito Hai noto? Chi hai ucciso? Nessuno Sessanta cikibe Mamma mia che simpatici Sono sotto Non eri tu L'Eazer vero? Qui c'è un morto Magari Io non sto trovando più Ci sono No perché ho visto solo passare Questo più ha visto Luke Marco sono tutti morti Aspetta Il L'Eazer è morto Dai note è morto Mi sa che uno Luke Si sta curando qua dentro Dai corriamo Marco Siamo la giustizia Aia che male che gli avete fatto Batti il 5 Marco Scusa Ho sbagliato Scusa Vediamoci insieme Dai Tutti insieme Dove che anche io siede tutti Eh Gatto sei tu l'altro Comunque Non ho fatto niente Eh no sei tu comunque Per esclusione Sei rimasto in due Per le Questo maledetto tab Per tagliassero il dito Che cosa Ah si ma gli prende solo Paypal E non carta di credit Ah si Alla Roby Però adesso Non è abilita Roby ti toccano ben 23 euro Io ho solo Paypal E abilita anche le carte di credito Ah E mi sembrava scomodo No Un tasco Abilita tutto Poi come fanno loro Lo vedono loro Adesso non è che si devono infilare i soldi nel culo E poi te li danno Infatti Tecnicamente Dov'è più deficiente però Che di scompolire Si è incastrato Si è incastratissimo Agia Vengo qui con te Vengo qui con te Ah non è visto La porta Ti sta bene Ma muori È morto Grazie Ma tu gli hai sparato Io ero nascosto nell'altro caso Ma che paura Ma sento che Cos'ha Cos'ha Niente Ve lo devo dire una cosa che non è potuta venire Comunque io mi passo anche i miei 45 centesimi personaggi dopo Vabbè Si però poi non ti prendi tutto il resto Però poi non ti prendi tutto il resto Però poi non ti prendi tutto il resto Dovete Dovete instaurare un sindacato Chi è il proprietario terriero del canale di Twitch Grazie Terriero Sono io quindi Dipende Chi è il proprietario terriero Sei il proprietario terriero No mi sa che è Esprit Sai No Esprit Non sa che è Su YouTube Esprit Cosa c'è Stanno iniziando a fare delle speculazioni sulla grandezza del tuo buco anale Perché ci stai infilando troppo Beh in realtà io non mi sto infilando niente Io sto insinuando che altri si infilano robe Ma ci si le robe quindi Io mi insinuo le robe agli altri Tu hai detto che è divertente Sempre di cose dentro Non ho detto che mi piace farle Raga raga Tutti qua Grazie Alessandro Grazie mille Conte di camor Lo sapevo Ricordiamo che alla fine della live I subscriber riceveranno il video in anteprima Esattamente Io mi sono roto i coglioni Sparo qualcuno adesso Dici minuti Che è il mio video porno Ve lo dico adesso Sento sparare Infatti verrà pubblicato Non fa ucciderti Oroti Verrà pubblicato in tutti i siti di informazione E' morto davanti Qualcuno è morto Decesse Luke Oroti è morto Spazimile Marco come sei primo di morire Però Oroti qui dentro No Oroti è morto Ci fa il callo Roby Penso sia sotto Allora io ho sentito Hanno sparato E' stato velocissimo Ho sparato in testa e sparito Non so mai più dove Ah che dolce Ma Luke è morto Ciao Marco Ciao Marco Ciao Marco Ciao Marco Marco Ciao Marco Ciao Moro E io? Fallo fallo Marco Eh gli hanno sparato da dietro A Luke Oh stai Potrebbe essere Marco Potrebbe essere Marco Occhio Ma se mi hanno sparato tutte le persone davanti addosso Io non l'ho visto in hot Che gli hanno sparato tutte le persone Ahia Sa che uno è morto E' lo porto lì Io ero morto Fran 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 zoc Grazie Fran 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 zoc Fran Fran zoc Fran zoc Fran 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 Vieni qua Sono io Che? Chi è? Cosa vuoi? Probabilmente L'ho già visto morire Eh avrà visto me probabilmente Eh si ha visto te Però gli hanno sparato da dietro Si gli hanno sparato da dietro Ok Era stronto Era hai visto Come cazzo hai sopravvissuto? Sei sopravvissuto? 5 di vita Arriba l'altro dietro di te Aspetta che mi curo Beh Uno di voi è Moro non è Ma scusa Ho sbagliato Niente E' oroti Eh si Marco E' oroti Sì ma io come Eh io ho 3 di vita Ti ho appoggiati tutti da far schifo Perdi pure questa No io mi sono curato Beh sono comunque uno schifo di uomo Però Sei bruttino Però dai non ti buttare giù Marco Va bene Allora Puoi sempre piacere a qualcuno Che questione di figli Marco dove sei tu? Sei morto Morenzo Ah ok so dove sei Mi avevate identificato? No non ti avevo identificato Io ero scappato via per curare Comunque oroti Marco appena lo vedi Sparagli almeno un colpo Dov'è? Non lo so L'ho sentito curarti qua in zona Poi ha smesso Quando ho detto le cose Marco sono io dietro Non spararmi Anche perché se Se gli soffio addosso Sviene Svengo Non hai robe per curarti proprio? Sì però ho paura di farmi sentire Ok Allora fecilo Mi medicuro Non dire parolacce che siamo in diretta Ah sento sparare? Buona Non ci sono rotti che camminava come un gambero Sì Facciamo l'ultima Esattamente Siamo mille comunque Grazie mille Ma cavolo Grazie Mille Mille E comunque La cacca la fa chiunque Ma facciamo l'ultima Facciamo ancora una 58 però andiamo 58 Dai dai Chiudiamo tutti gli occhi Tranne il traditore Dai I due traditore ci guardano Cos'è? Il villaggio? Fanno l'amore con il sapore Sul gazebo ragazzi Sul gazebo Sul gazebo Devo arrivare in mezzo Per aspetta Io sono sul gazebo Quindi uno è lieto Per portosinia Ma sul E per avere il controllo E per avere il controllo Vedete c'è la più lunga del mo No dottore Benzin Per la subscive Da tre mesi Quattro Marco lo so che volevi ridere Ciao Ciao Mi fa ridere Effettivamente Cos'è Ho sganzato la insegnaria Testina Ma Moro Eh Esplose Eeeh Eeeh Allora Aia Bene Ti tiri Eh vabbè Guardate il prossimo Eh vabbè Si è messo sulle scale Alla prossima Ah Gia Gio tutti così Alla prossima Bene Grazie per essere passati ragazzi Eeeh Passate da gatto Grazie a Fincher Grazie a Fincher Ancora per la donazione Grazie Grazie a tutti con le sub Le donazioni Passate da gatto Ricordatevi sub Di guardare l'email E a domani Ciao 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 Ciao